E benvenuti amici, io sono Pimpos e oggi ritorniamo su City Bus Manager, gioco che ho portato tipo due anni fa Nel frattempo sono usciti due DLC, vabbè uno dove hanno aggiunto gli autobus elettrici quindi non ho portato il video Ma in questi giorni è uscito l'Holiday Resorts, quindi il nuovo DLC in cui possiamo gestire la nostra attività di autobus In questo nuovo postaccio Quindi iniziamo subito, andiamo su scenari, Holiday Resorts and Slicing Bus E quindi niente, iniziamo questa avventura all'isola di Madeira Prima cosa, ah qua abbiamo già due cosucce fatte, direi che non ho mai fatto niente Quindi vediamo quest'isola Eh, bella grande Enorme aggiungere, ma io dovrei gestire gli autobus di tutto sto postaccio Grande, non ce la farò mai, comunque proviamoci Allora, cominciamo, obiettivi di bronzo Iniziamo dal bronzo per poi arrivare agli obiettivi d'oro Compra intanto due autobus perché senza gli autobus ovviamente non facciamo niente Allora, gli autobus usciranno da qui E questi sono i loro parcheggi Quindi andiamo a comprare due autobus E visto che per dire sì, magari possiamo comprarci questi autobus elettrici Almeno risparmiamo il carbone 18.500 e 15.200, possiamo comprarli effettivamente Il sitea LL Vabbè, io comprari uno e l'altro Non ha l'aria condizionata? Come no? Che autobus dello schifo è? Ah, sono tutte varie migliorie che potremmo fare eventualmente Vabbè, facciamo che li prendiamo tutti e due E chi si è visto si è visto Vai, uno di questo Ok, possiamo cambiare il colore verdi Li facciamo tutti verdi No, tutti verdi Vabbè, la mia compagnia è salvo SP Quindi gli autobus saranno verdi e blu Come giusto che sia Quindi colore primario e colore secondario Li possiamo anche invertire Volendo Non so se c'è possibilità di caricare il mio logo Oppure facciamo il sotto blu E il sopra verde Madeleine International Mi sta chiamando Cristiano Ronaldo Ordine di trasferimenti in hotel E intanto è arrivato l'autobus Dovevo cambiare il colore per l'altro io Dovevo comprare un altro Abbiamo bisogno di un pullman navetta per turisti Che possono registrarsi ogni giorno per il viaggio del giorno successivo Dovrete pianificare un percorso adeguato ogni sera In base alle registrazioni Ci aspettiamo 48 passeggeri al giorno Paghiamo 22 euro per ogni passaggero trasportato Pullman navetta per turisti Aspetta che mi vado a comprare Ordine accettato Dei programmare e confermare la linea dopo le 19 In base agli hotelli prenotati Già mi sono perso io qua Che cacchio devo fare? Ah, intanto mi devo shoppare un altro autobus io Vabbè, compro quello, no? Navetta per turisti È sempre questo, eh Non è che c'è qua la navetta Credo Vabbè, prendiamo il site E l'ELE Parlava di 48 passeggeri Quindi presumo di poterli soddisfare in entrambi i casi Compro questo Vabbè, sempre lo stesso colore Non è un problema In porta adesivo si può fare Allora, uno me lo applico qua Però devo ingrandire Tac Ci stanno che è una meraviglia proprio È qua un pochino più grande Eccolo qua, perfetto Si capisce che sono i miei autobus questi Va bene così Applico Dobbiamo applicare anche l'altro Dobbiamo applicarli Va bene così Allora, assumi due autisti Un meccanico Un ricercatore Un addetto alle pulizie È un addetto all'assistenza Ecco Aspetta che io vado al mio parco autobus qua Dobbiamo modificare assolutamente questo Eh, però non me lo fa verniciare Perché? Miglior attrezzatura Non me lo fa verniciare più Personale Allora Autista numero uno Salario 14,50 Cordialità È troppo scorbutico Quindi niente È manco abile Che è inutile proprio E giustamente Più li paghiamo Più gli aumenta Più gli aumentano le bane Solo la cordialità aumenta Ok Questi meccanici Quindi dobbiamo assumere Due autisti Intanto andiamo agli autisti Niente È a livello di cordialità Fanno tutti schifo Sti autisti Comunque Ve lo vorrei dire Ma perché Che siete arrabbiati con la vita È Più che altro Non sono abili Vabbè Prendo lui Gli aumento un po' il salario Così è più Niente Io lo pago 15 euro Non frega mia È già tanto Lo pago 9 euro E ti resta pure zitto Ah lui vuole 13,70 all'ora E te Piglietti Vabbè Se gli diamo qualcosina in più Magari È più cordiale Quindi assumo Quindi accetta subito Ah possiamo dargli Qualcosina in meno Però dobbiamo inviargli La richiesta E sperare che accetta Poi Addetto alle pulizie Un'altra autista Che fa un tassumi 15,20 15,30 Ok E due autisti Ce l'abbiamo Poi il meccanico L'addetto alle pulizie Mi serve un addetto Alle pulizie Cordiale Perché se gli dico Io di andare a pulire Per terra Che ci sono le molliche Deve andare a pulire Senza sbattermi qualcosa In faccia Quindi Lo paghiamo Un po' di più Va 17,90 Come l'autista Praticamente E va bene Assumi E poi Meccanico Ricercatore Fallirò presto Assolutamente Sì E quindi Assumi il meccanico Il ricercatore Cordialità Ti schifo a cordialità Ve lo vorrei dire Un ricercatore Oh vedi che questo È più cordiale A 10,5 A 11 A 10,80 A 10 Pref Quelli che vuole lui Quindi ricercatore Assumiamolo Dopo Addetto all'assistenza Addetto all'assistenza Eccolo qua Abbastanza cordiale Poco abile Ma almeno è cordiale Quindi non manda La gente che parla Con lui Va bene così Assur fatto Fatto Ora Andiamo a creare La nostra prima linea Ora c'è da capire Qua come cacchio si fa Apri la mappa Cliccando qui E crea la tua Prima linea di autobus E meglio iniziare Con una linea di autobus Centrale Con 10,15 Fermate Aspetta Perché ora qua La vedo incasinata Come situazione Che poi sta in aeroporto Di Cristiano Ronaldo Ma dov'è? Ma qua non si capisce niente A Funcial Andiamo a funghi pure qua Se io scrivo Ronaldo Me lo trovo Ronaldo Eccolo Materia International Oh perfetto Oh l'abbiamo trovato Si trova a Fanculonia praticamente Ma io mi trovo Dall'altra parte del mondo Cioè da qui Io dovrei scoppare qui Cioè io dovrei creare Tante fermate Fino ad arrivare lì Vabbè quello sarebbe Credo l'obiettivo finale Da raggiungere Noi ancora qua Siamo spicciolati Di tutto Quindi intanto Creiamoci queste 10,15 fermate Poi verso Destinazioni di tipo Di ricezione Quindi alberghi Vari ed eventuali Che cosa abbiamo qua? Ma qua non c'è niente Io vivo in un buco Praticamente Qui a Quinta Forte Questa dovrebbe essere Un hotel Quindi cominciamo a creare Fermate da qui Io parto da qui Questa in teoria È la strada Allora noi dobbiamo Creare delle fermate Quindi linee Nuova linea Oh cominciamo Quindi accettiamo questo Collegata ad arco Vabbè solo questa Sei fermate Almeno 200 metri Vabbè accetto questa Allora dobbiamo collegare Più punti di interesse Possibile Non lo so Io comincio a collegare Cosa cacchio di canne Tanto è sempre la soluzione migliore Non so collegare Linee di autobus Ebbè fate a piedi Se è troppo distante Non me ne frega niente E siamo a 23 su 42 Ma dove sono Tutti sti punti di interesse Non esistono Io mi sto allargando Qua in base a quello Che mi viene detto Ah poi se mi allargo Sempre di più Qualche punto qua Lo troveremo 36 su 42 Vai Vai che Stiamo arrivando 39 42 Perfetto Conferma Il capolinea Non è vicino Alla fermata di partenza Aggiunge automaticamente Il percorso di torno Sì sì Fai tu Fai tutto tu Perché già non ci vedo più niente Io qua Perfetto Cioè sto viaggio È da 18 ore Praticamente Cioè si è bloccato Poi il pc Secondo me Fatto Fatto Oh che casino You created Your first bus route Vabbè Confermo tutto Per com'è È un gestionale Raga Va preso Va trattato Come un gestionale Siccome io voglio Vedere gli autobus I miei autobus Che viaggiano Posiziona Stazione di carica Nel capoline 5.000 euro Ok Attiva Effettivamente Se scarica l'autobus Che facciamo E andiamo a cliccare Su finanze Per impostare Il prezzo Dei biglietti Ecco qua Quanto lo facciamo Pagare un bel biglietto Biglietto turistico Giornaliero Non lo so 18 Per tratta breve Per tratta breve 1.80 Mettiamo un po' i prezzi Biglietto singolo 2.80 Biglietto giornaliero 7 8 euro Biglietto settimanale 28 euro A posto Quindi Crea due linee turistiche E usa regolarmente Gli autobus Su di esso Ok Questo l'abbiamo fatto Cioè io mi trovo Dall'altra parte Della città I miei autobus Come ci arrivano Così Chiedo per un amico Mettiamo play Vediamo quello che succede Assegno turno Assegna Assegniamo Antonia Martinez Selezioniamo un autobus Te piglieti questo Ora Antonia Martinez Credo che Deba partire Ma io l'ho assegnata A Martinez qua Ma non parte Che gli è successo Si è persa per strada Oh è partita Eccola Cioè io la seguirei Per tutto il tragitto Sono proprio curioso Di capire Che ci va a affanire Alla sopra Mi si scarica L'autobus Di qua che arriva Quella Vediamo se la vediamo Qui Dal satellitare Se riuscissi a zoom Eccola Guarda che veloce Come fuori servizio Ah ok Quindi noi possiamo Creare le linee Ma poi tanto Ci vanno da soli Dove sta andando Non è la Martinez questa Credo Dove sta andando Martinez hai sbagliato strada Cioè non mi dire Che sta facendo Tutta sta strada Non ci arriverà mai là Vai Martinez Che siamo tutti con te Ma mi dice il nome Ed è velocissimo Guarda là Spero non faccia incidenti Con questa velocità E ci sta andando Un pochino alla volta Ci sta andando Qua rallenta perché C'è gente Però mi dice che è fuori Ah fuori servizio Perché comunque Sta andando dritto per dritto Là nella zona Dove deve lavorare Quindi qua Non si sta fermando Effettivamente Quindi ora che raggiunge Quella zona Noi inizieremo A guadagnare Qualcosina In teoria Giusto Ed eccola Che sta arrivando Vediamo che cosa succede Io dovrei Io dovrei farmi Una base qua Che sta facendo Ah giustamente Sta raggiungendo La prima fermata Che non mi ricordo Dove l'ho messa E quindi che fa Una volta che si fa Il giro qua Poi torna lì Ma con quale Elettricità Poi Oh è arrivata Oh finalmente E quindi La partita È stata salvata Manomale Niente In teoria Sta lavorando Perché mi dice Annulla turno 256 Ma qua i soldi scendono Anziché salire Ma com'è sto fatto Vogliamo lavorare Aspetta che io Dovrei creare Un'altra linea Per questo autobus Fermo qua Dobbiamo creare Due linee turistiche Infatti Quindi Vado in mappa Creiamo un'altra Questa che è Ordini di trasferimento In hotel È sempre quello Madera International Vabbè di qua Che sblocchiamo Quell'obiettivo Si fa capotanno E andiamo a creare Un'altra linea Nuova linea Ah possiamo creare Anche la linea turistica Ed è quella che mi serve Allora Avrei potuto farle Anche dove sono io Ma perché Mi fate fare le cose Così A cacchio di cane Oh Dobbiamo collegare Degli Degli hotel Qua vedi Che mi sono andato Là sotto Io Che cavolo Quindi prendo da qui Poi Mi allargo qua C'è l'hotel Colleghiamo un po' Di hotel E questa è una linea No Vado a collegare Poi basta Confermo questa Aggiungere il percorso Di ritorno Posizioniamo Le stazioni di ricarica Io sto solo spendendo In questa puntata Attiva le linee subito Ok E andiamo a creare Un'altra linea turistica A sto punto Che mi va a prendere Gli alberghi Che c'erano sotto Quindi nuova linea Linea privata Linea turistica Che mi va a prendere Guarda quanti alberghi Che abbiamo qua Adesso questi li prendo tutti E già 28 hotel Che fa niente E dovrei anche passare Qui da qualche parte Basta che ci passo forse Penso di poter ritornare Da qui Gli hotel li abbiamo presi Li abbiamo presi Ben 33 Direi che ci può stare Basta Confermo Volume di passeggi Previsto per cosa 5 Come 5 Ma come ho preso 34 alberghi Là com'è che siamo 5 Ma come sto discorso Confermo Attiva subito Perfetto Le linee le ho create Però non parte nessuno Dobbiamo assegnarle Quindi usciamo da qua Ma se io clicco direttamente qua Mi dice pianifica linea comunque Quindi io in teoria Lo posso fare Collega hotel Case de Oliveira È collegata a Madeleine International Airport Quindi scusa Io lo faccio partire da qua Questa è una linea libera Allora Faccio tutta sta strada Con delle fermate In un qualche modo Dico Ce la fa l'autista Ad uscire da Da sta situazione No Allora posso dire Che la creazione Delle linee È abbastanza frustrante Perfetto Comunque stiamo arrivando C'è un passetto alla volta Stiamo arrivando Stiamo arrivando Dov'è l'entrata Nell'aeroporto Così in amicizia Da qua Da qua Entro qua Appa siamo arrivati Fatto Alleluia Forse l'abbiamo fatto Raga Il capolino Non è vicino Aggiunge Si Fai Fai tu Fai tu Perché già non ci vedo più Mi sono fatto già tre linee E un autobus ancora Non è partito Nove passeggeri Finalmente si stanno muovendo In qualche modo Che poi io ho sto autobus qua Ma come faccio ad assegnarlo Alla linea che io creo Da qui forse Allora Allora qua Abbiamo una quantità industriale Questa Oh Nome linea Azione disattiva Aggiungi auto Vedi dove Tre ore Ok Il turno è stato assegnato E l'autista sta guidando Oh mi fa piacere Mi fa piacere Un'altra autista Tu Stress Pure lo stress Sono più stressato di voi Assumi Assumi Autista Va bene così Oh alleluia Quindi Mi sto stressando la vita pure io Quindi qua Aggiungi autobus Oh è partito Va benissimo Va benissimo Vattene Non venire mai più Fin quando non hai fatto Il tuo lavoro Io vedo solo che i soldi scendono qua Non è che aumentano È partito Dove sta Ma dove sta Ecco è partito Ah ecco Perfetto L'abbiamo Ce l'abbiamo Io comprerò un altro autobus pure Perché ho creato tante di quelle lì Perché Che sta andando questo Mi sento un po' in difficoltà Un altro elettrico 60 passeggeri Vai No questo Che ha più autonomia Lo lascio bianco Lascio bianco Carico Carica modelli Il locale Che l'avevo salvato Bel modello Fantastico Ottimo Poi lo verniciamo in qualche modo Quindi Ah comunque 17 biglietti Li abbiamo venduti però È arrivato il nuovo autobus Lo assegno instant proprio Ora mi ci vuole un altro autista Però giusto E questo si sta facendo sta tratta Non è che Quindi linee Aggiungi autobus Questo nuovo Non ci sono autobus operativi Con un'autonomia sufficiente Disponibile per questo turno Non è ancora segnato Un altro turno E acquisto un altro autobus Quanti autobus Devo comprare Secondo me È per il semplice fatto Che Non ci sono Stazioni di ricarica Nel percorso Quindi Si scaricerebbe L'autobus Ecco perché mi dice Non ci sono Autobus Con abbastanza autonomia Quindi Quello che noi dovremmo fare È Creare Modifica Creare delle Stazioni No Ma come 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 la giungola Vado a comprare un altro autobus Non elettrico Così una pompa di benzina La troveremo per strada Il vecchio e caro diesel Sempre una garanzia Nero carbone Per far capire Che va a diesel Oh Appena mi dice Di nuovo Che non garantisce L'arrivo dell'autobus Io disinstallo il gioco Oh perfetto Quindi È arrivato Vado alla linea Linea turistica Aggiungi autobus Vedi che il caro e vecchio diesel Funziona Vedi Queste autonomia Insufficiente Questo ce la fa Perché ha diesel Amore Dai Sfisciatevi Che già Cristiano Ronaldo È invecchiato Secondo me Ecco Sta partendo La signora Oh finalmente Finalmente Vediamo qualcosì Ora di qua che arriva là Si fa Non Natale Si fa Natale Ma Fra due anni Allora La linea l'abbiamo fatta Eccola qua Ora si fa tutte le fermate Ma com'è che non sale nessuno Zero di 55 Ma dov'è la gente Zero Tutte queste fermate Non c'è nessuno Ma com'è sto fatto Ma com'è Sono stato scammato Al 100% Forse perché Ho messo questo Tragetto Dovevo fare tipo Le viuzze qua Passare per di qua Non lo so Ma forse devo Andarla a prendere Ah devo andarla a prendere Forse All'aeroporto E trasportarle lì Ok Ha senso Guarda quella Come sfreccia È tornata la signorina Ti è arrivato A posto i soldi Ma com'è che è sempre Zero qua Oh Siamo arrivati all'aeroporto Donde era qui l'aeroporto Ok sta facendo il giro Vai Prendi sta gente Appena non entra nessuno In cavolo Oh siamo arrivati Carichiamo la gente Ma perché sto facendo Sto giro io Vabbè L'importante è che arriviamo Prima o poi Prima o poi arriveremo Se sta andando Ma non ha Ma che sta succedendo Ma perché Sto sprecando diesel così A cacchio di cane proprio Qua sto giro Arriva qua e gira di nuovo È entrato in un loop Raga il mio autobus È impazzito Poi il navigatore Del mio autobus Ottimo Ma sarà stata colpa mia Forse per Cioè l'ho creato male Sto percorso Mi sa di sì Cioè non riesce ad entrare Vabbè raga Gioco da esplorare Quindi provatelo Fatemi sapere voi Nei commenti Che cosa ho sbagliato Io mi sa che devo Ricominciare la partita Perché ho speso Molto molto più Di quanto sto incassando Praticamente Quindi mi raccomando Di lasciare like Iscrivetevi al canale Se non siete iscritti Attivate la camparella E poi c'è tutto Al prossimo video